Sofia, la principessa. Per Sofia è un giorno speciale. Stasera sua sorella Amber ha organizzato un pigiama party in suo onore e le ha promesso che si divertiranno un mondo. Bailwick e la cameriera stanno già preparando le stanze. Che emozione! esclama la piccola principessa. Poco dopo le invitate di Amber arrivano al castello. Sofia intanto accoglie con gioia Jade e Ruby, le amiche del villaggio. Quando tutte si sono cambiate Sofia inizia a ballare con le sue amiche. Che confusione! commenta Amber seccata. Ruby allora le offre una pigna colorata. Usala come bigodino. Amber e le principesse Hildegard e Cleo restano di stucco. Le pigne non hanno niente a che fare con la nostra festa, protesta Amber. Sofia si scusa e le promette che troverà subito una soluzione. Così, insieme al maggiordomo Bailwick e i suoi amici animali, Sofia aiuta Ruby e Jade a trasformarsi in vere principesse. Wow! esclamano le due in coro guardandosi allo specchio. I loro abiti sono meravigliosi e le loro acconciature semplicemente perfette. Intanto è giunto il momento di dipingere i ventagli. Ruby e Jade si divertono molto, ma non si comportano affatto da principesse. Più tardi le bambine si mettono a giocare a mosca cieca, ma Jade urta un soprammobile. Forse è meglio guardare lo spettacolo di Burattini, propone Sofia. Tutte si siedono davanti al teatrino e in quel momento entra il fratello di Sofia. Principe James! grida Jade emozionata. Le due bambine corrono a salutare James e senza volere rovesciano la grande fontana di cioccolato. Oh no! grida Sofia! Gli schizzi di cioccolato hanno macchiato la camicia da notte di Amber. Che disastro! Questo è troppo sbotta Amber. Ruby e Jade stanno rovinando la nostra festa. Il Degarde Clio le danno subito ragione. Ragazze, non potete comportarvi da principesse? chiede Sofia alle sue amiche. Vorrei tanto che voi e Amber andaste d'accordo. Le principesse non combinano disastri, continua Sofia. Ruby e Jade promettono di stare tranquille, ma si offendono un po'. Il pigiama party prosegue senza problemi, ma le amiche di Sofia se ne stanno in silenzio. Le principesse sono così noiose. Ora vi state comportando bene e non mi mettete più in imbarazzo, commenta Sofia orgogliosa. Ruby e Jade però ci rimangono molto male. Andiamo a casa, esclamano, correndo verso la porta. Sofia è dispiaciuta e chiede consiglio alla mamma. Devi accettare le persone per quello che sono, non cercare di cambiarle, spiega lei. La piccola principessa capisce di avere sbagliato e corre a scusarsi con le amiche. Restate, ci divertiremo promette. Ruby e Jade la perdonano e poco dopo le piccole si mettono a giocare nella cameretta di Sofia, proprio come facevano al villaggio. Intanto Amber e le sue amiche si annoiano un sacco. Forse dovremmo unirci a Sofia e alle altre, propone Clio. Possiamo stare con voi, chiede Amber. Il nostro pigiama party è così noioso. Ma certo, risponde Ruby. Ora sì che la nostra festa sarà meravigliosa, commenta Sofia Felice. Fine.